Potete usare questi contatti per segnalarci i problemi del nostro territorio come quello che potrebbe succedere all'acqua che sgorga dai rubinetti di Varese. Se ne è occupato Roberto Troian. Preoccupazione per il futuro dell'acqua che rifornisce per il 70% l'acquedotto di Varese per il restante 30% ai comuni dell'area. La possibile riapertura di una cava di inerti potrebbe infatti creare problemi alle falde che contengono il prezioso oro blu. Una vicenda che va avanti da tempo, una preoccupazione a suo tempo condivisa dalla società di gestione dell'acquedotto. Ieri anche la richiesta di sollecito del consiglio comunale di Cantello all'unanimità alla giunta regionale perché si pronunci contro la ripresa dell'attività estrattiva nel sito dei tre scali in Valle della Bevera. Sì, sollecitati dalle 45 associazioni facendo parte del comune della zona Varese-Cantello, Valle della Bevera, abbiamo aderito all'unanimità con delibera alla richiesta di ottenere dalla regione Lombardia lo stralcio della cava. Il pericolo è quello che si arrivi per una lentezza di carattere essenzialmente burocratico a veder perso il risultato dello stralcio della cava che si era ottenuto grazie al pronunciamento unanime del consiglio provinciale di Varese la scorsa estate. Giorni fa la lettera del presidente della regione Roberto Formigoni alle associazioni nella quale era sicura sul liter della pratica. Ma non basta a tranquillizzare cittadini e istituzioni. La cosa importante in questo momento è che la regione Lombardia tenga conto di quella che è una volontà popolare. Il ritardo di un pronunciamento della giunta regionale potrebbe infatti lasciare il campo alla sentenza del tribunale amministrativo al quale si è appellata la società estrattiva.